Allora, salve, ho preso la multa, eccola qua, la multa e vabbè ho preso la multa, il limite era ai 50, non me la meritavo troppo, il limite era ai 50, io andavo a 58, 5% me l'hanno fatto di sconto per 3, 3 chilometrucci ho preso la multa, vabbè comunque l'ho presa, ho sbagliato e la pago, però voglio sapere una cosa, io l'ho presa con il Velocar, adesso c'è il Velocar, che cos'è il Velocar? Prima c'era il classico autovelox a destra, il bussolotto, tu lo vedevi, tu inchiodavi e lo dietro, boh, ti pigliava, ti dava una botta e se non altro però la multa non tu la pigliavi perché tu inchiodavi e tu lo sapevi che lì c'era una linea, ora invece il Velocar, la mia domanda è quanto dura? perché pare che sia messo, è un'entità astratta messa dall'alto che ti guarda e pare che ti segua, c'è chi dice per 30 metri, c'è chi dice per 50 metri, inizio dice che è convinto una volta che tu entri in questa bolla di Velocar, perché te ne accorgi di essere entrato in un presepe di 60 macchine e improvvisamente vanno a 12 all'ora guardandosi, come dire c'è il Velocar, c'è il Velocar che ci guarda, è una processione improvvisamente senza morto, te tu guardi e dici ma c'è il morto, no non c'è, allora vuol dire che tu sei entrato nella bolla del Velocar, quanto dura? perché inizio è convinto che una volta che entri in questa bolla cosmica del Velocar, lui ti segua fino a casa, lui addirittura arriva la sera, va a letto, si affaccia alla finestra e lo saluta, ciao Velocar, ovunque tu sia, capito? un tipo Truman Show, allora la mia domanda è quanto ti prende sto Velocar invece quando ti lascia il Velocar?